Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Nell'oscurità del mondo dello spettacolo italiano, si sta consumando un mistero degno di una cronaca nera avvolta in un alone di scandalo. Le rivelazioni scioccanti che coinvolgono la celebre regina del piccolo schermo, Maria De Filippi, stanno gettando una sinistra ombra sul suo passato. Pare che la nota presentatrice televisiva, mentre era legata al defunto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, abbia nascosto con abilità una relazione segreta e appassionata con un enigmatico individuo. Questo antico amore clandestino, un segreto gelosamente custodito fino alla morte di Costanzo, ora emerge dall'oscurità, gettando una nuova luce sulla vita privata di Maria De Filippi. La conduttrice, in modo astuto e graduale, ha iniziato a disseminare indizi sempre più inequivocabili sul suo oscuro passato sentimentale, lasciando pendere la misteriosa minaccia che potrebbe ben presto condividere questo torbido capitolo con il vasto pubblico. Le speculazioni sulla sua torbida relazione con Costanzo, una figura iconica nella storia della televisione italiana, sono scoppiate come un fuoco divorante, alimentando una serie di accese discussioni e congetture sul suo intricato intreccio amoroso. Maria De Filippi, con la sua maestria nel condurre programmi di successo e il suo ineguagliabile talento nell'arte dell'intrattenimento, tiene in scacco il pubblico, che attende con ansia la rivelazione di questa passione segreta, pronta a svelare gli aspetti più oscuri della sua vita e della sua personalità. L'intera industria dell'intrattenimento, in uno stato di trepidante attesa, si aggrappa con ansia alla speranza di ulteriori dettagli su questa vicenda avvolta nel mistero, pronta a divorare ogni singola informazione che possa gettare luce su questa tormentata narrazione.